I soldi che andranno a finanziare i livelli essenziali delle prestazioni, i cosiddetti LEP, condizione necessaria per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle regioni, non arriveranno prima del 2026. Lo certifica il ministro per gli affari regionali Calderoli, padre della legge attuativa della riforma del titolo quinto della Costituzione. Una legge che continua a dividere le regioni a guida di destra e di sinistra, ma anche trasversalmente tra fronte del nord e fronte del sud, con distingo nella stessa maggioranza. Il nodo da sciogliere è sempre quello dei LEP, che ieri il ministro dell'economia Giorgetti ha definito prerequisito essenziale per valutare le risorse necessarie a finanziare in ciascuna regione le funzioni fondamentali e diritti civili e sociali da garantire su tutto il territorio nazionale. E mentre la regione Piemonte si unisce a Veneto e Lombardia nel pressing sul governo per chiedere il trasferimento delle competenze su nove materie che non prevedono la determinazione dei LEP, la campagna, seguita ieri dall'Emilia Romagna e domani dalla Puglia, dà il via libera alle delibere sulla richiesta di referendum abrogativo della legge Calderoli. La prossima settimana toccherà alla Sardegna, poi alla Toscana. Parallelamente alle manovre dei cinque consigli regionali a guida centrosinistra, che hanno avviato uno dei due ITER per il referendum abrogativo, il fronte costituito dalle 34 sigle, tra cui tutti i partiti di opposizione, tranne azione, CGL e Will, che venerdì scorso hanno depositato in Cassazione il quesito referendario, proseguono la campagna per la raccolta firme. Ne servono 500.000 da depositare entro il 30 settembre. Autonomia e premierato sono frutto di un cinico baratto che ha visto una sedicente patriota spaccare in due il paese, la linea di attacco della segretaria Demschlein, mentre sempre dal PD, capogruppo al Senato Boccia, replica oggi al Calenda, che qualche giorno fa dava per scontato il flop del referendum a rischio quorum. Penso che Calenda non abbia ancora colto l'importanza di fare battaglie che cambiano il profilo culturale dell'intera coalizione.